Emmaus è il nome di una comunità terapeutica per le dipendenze patologiche che si trova in Salvegna, ad Iglesias per l'esattezza, in mezzo alla campagna. Nel mio film ho cercato di raccontare la storia di tre persone che vivono in questa comunità e la loro vita sia dentro che fuori la comunità, che è una vita molto dura e difficile. Emmaus è solo un un po' di inglesiasi, ogni memoria di un po' di un po' di una comunità di medicina. L'argomotodologica e la loro malattie sono trovati. Si lavorano in un po' di 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 vita. Però sono concentrati su questi tre personaggi. non tanto sulle loro problematiche con la droga ma più che altro sulle loro sensazioni, loro lavori, loro sentimenti e il mio incontro con loro e quello che ha prodotto. Ho evitato di imporre il mio sguardo su di loro ma ho cercato che anche loro restituissero il proprio sguardo su di me e su l'ambiente che gli altri, li circondava quindi dandogli la camera e permettendo che fossero anche loro a filmare. Creando quindi uno scambio reciproco? Questa è la prima volta che presento il film fuori dall'Italia e sono molto contenta di presentarlo a Istanbul. e di avere l'opportunità di avere anche tanti film di registri turchi che altrimenti non avrei visto? e davanti attraverso me non so Arfino molto settore avevo fatto. Questa è ancora un film aiuto dalla città di un termesco di QTSS L'estrata di un'occhio, l'estrata di un'occhio e stazione, lui è poverso che il non inibia. La galleria chica Inomino libera che le scambio a si, i un interesse e all'acchia delle cor Muslimo, e s'ad acella torre, l'acchia delle scambio invece di prodotti ogni attraverso. Grazie.